In previsione della riforma della sanità lombarda, delineata dalle linee dello sviluppo della regia regionale 23 del 2015, l'Ordine dei Medici di Bresci intende offrire un contributo per disegnare il futuro sistema sanitario regionale, dando voce alle istanze di professionisti che lavorano sul territorio e negli ospedali. A tal proposito è stato creato un gruppo di lavoro che ha licenziato un documento con alcune proposte, suddivise per argomenti tematici, al fine di arricchire e migliorare il quadro di interventi delineato nelle linee di sviluppo della sanità regionale. Secondo il documento dell'Ordine, per riformare la sanità, il punto di partenza devono essere i bisogni del cittadino, cui va data una risposta integrata, evitando di spezzettarla in tante prestazioni che non facilitano una corretta presa in carico del paziente. E in questa prospettiva viene salutata con favore la scelta di riattivare i distretti sociosanitari. Noi ci basiamo sulle linee guida che la regione Lombardia ha recentemente prodotto, sulla riforma della legge 23, che era stata introdotta cinque anni fa in termini sperimentali, abbiamo costituito un gruppo di lavoro, abbiamo constatato, secondo questo gruppo di lavoro, che vi sono dei passi avanti, si pensi alla re-istituzione dei distretti, pensiamo al ruolo che si può essere svolto all'interno delle case e della comunità, per quanto riguarda l'interazione fra territorio, ospedale e sociale. I miei colleghi hanno rilevato che alcune situazioni non compaiono in questione di guida, come per esempio la cena e la pediatria, gli aspetti di prevenzione. Ed ultima cosa, non meno importante, è che ci sono disegnati tanti contenitori, però non ci sono ancora definite le funzioni, aspettiamo, vediamo nell'evoluzione dell'iter di questa legge se queste funzioni verranno definite, sicuramente noi le valuteremo con attenzione, con spirito critico laddove bisogna essere critici, come dice il nostro documento, ma sempre con un'idea propositiva che è una caratteristica di questo ordine. L'obiettivo prioritario è quindi quello di assicurare che le persone siano meglio accompagnate, assistite e curate lungo la loro vita, partendo dalla prevenzione, per arrivare alla salvaguardia della salute individuale e di comunità. Le altre aree tematiche toccate sono quelle della pediatria, della cronicità e degli anziani fragili. Il punto principale che l'ordine vede come importante da implementare è la possibilità che l'unico referente per la presa in carico del paziente fragile e anziano debba essere il medico di medicina generale. che sia singolo, aggregato, in strutture già presenti, ma che comunque faccia riferimento alla Casa della Comunità, emanazione diretta del distretto, per poter interagire con tutte le figure sanitarie e sociosanitarie presenti nel distretto. È chiaro che è un auspicio, deve essere ancora sviluppato, però l'ordine sicuramente auspica questa interazione. Interazione che non deve essere solo funzionale, ma anche in un luogo fisico, come sembra essere previsto con le case della comunità. La pediatria territoriale è stata dimenticata da questa delibera di Regione Lombardia. L'ordine ritiene che comunque sia un elemento fondante, fondamentale, per la presa in carico sin dall'infanzia della persona e auspica sicuramente una valorizzazione del pediatra di libera scelta e anche dei consultori familiari e vede come sbocco naturale questa interazione all'interno delle case delle comunità una volta che saranno istituite. Un'altra cosa che preme al documento che è stato espresso è una continuità nel passaggio in cura tra l'età adolescenziale e l'età adulta, passaggio molto delicato, che attualmente non è così lineare, mentre invece in un contesto di condivisione dei dati potrebbe essere un valore aggiunto.